Questo è il gioco del rimbalzo. L'obiettivo è quello di far rimbalzare a terra la palla. Qui andiamo a sviluppare e a migliorare la capacità spazio-tempo ma anche di coordinazione in questo caso degli arti superiori. Iniziamo. Hai bisogno solo di una palla che rimbalzi ovviamente per terra. Iniziamo. Due mani ben salda alla palla che spingono bene verso il movimento e riprendo. Spingo, riprendo. Spingo, riprendo. Guarda bene il mio gomito. Spingo, stendo bene le braccia e riprendo. Ora per renderlo un po' più difficile dopo che ti sei allenato un po' così, andiamo muovendoci nello spazio. Spingo, riprendo. Spingo, riprendo. Spingo, riprendo. Spingo, riprendo. Se vuoi rendere questo gioco un po' più difficile, tuoi spingi, fatti le mani e prendi la palla. Spingo, fatti le mani e prendi la palla. Spingo e prendi. Proviamo?